Partiamo da le notizie, che sono notizie negative, neanche a farla apposta in questo momento, no? Un momento di negatività che chiama negatività, perché sì, ragazzi, è e rimane un momento di negatività. Non si può pensare di essere usciti dalla zona calda. Ad ogni modo, le notizie. Rabiot, lussazione della falange, del primo dito del piede destro. Difficile averlo a disposizione con il Napoli, per domenica prossima, molto difficile. Weston McKennie, lussazione alla spalla sinistra, e qua magari ci si può lavorare, vedremo. Ora i centrocampisti della Juve sono Alcaraz, Locatelli, Miretti e Nicolò Sicaviglia. Se no, ci sono le possibilità legate a Ealing, Junior e Cambiaso come mezzali. Penso di non aver dimenticato nessun altro, dovrebbero essere questi i piani, i potenziali piani per la Juventus in vista della trasferta di Napoli. Vediamo un po' che cosa succede. E poi passiamo a quello che è il fulcro di questo video, che avete letto anche nel titolo. E cioè, io oggi non sono riuscito ad esultare al 3-2 di Rugani. Non ce l'ho fatto, è stato più forte di me. Esultare al 3-2 di Rugani è stato più forte di me, non ci sono riuscito. Non ne ho avuto la forza. E intanto vi metto questa clip e poi ne parliamo. Daniele. Daniele. Assisti di Vlaovic. Super partita di Vlaovic. E' bravissimo Daniele. Bravo Dani. Bravo Dani. Allora, intanto vi dico che mi vergogno di questa cosa. Me ne vergogno e è così. Perché non esultare un gol della Juve è brutto. Anzi, più che me ne vergogno, mi dispiace. Mi dispiace. Perché vincere al 90-95 è una cosa che deve essere bella e che deve far godere. Però oggi non ho provato emozioni. Oggi non mi sono arrivate emozioni. Perché, appunto, come vi dicevo in apertura, siamo ancora dentro alla crisi nera, se non nerissima. Una crisi nera come la pece. E non sono questi tre punti che mi dicono Ehi, vai tranquillo. E' tutto superato. E' tutto sistemato. Anche perché non è una partita dentro a un buon momento dal punto di vista delle prestazioni O un buon momento dal punto di vista dei risultati. Senza quel calcio piazzato, quel calcio d'angolo, non sarebbe cambiato nulla se non appunto nella classifica. Due punti in più. Questo è il concreto che oggi mi porta a casa. Voglio cercare di essere il più pragmatico possibile. Sono i due punti in più. Attenzione però, non sono qui a dirvi, non ho esultato perché questa vittoria la considero inutile. No, perché è una bugia. È una grande bugia. Questa vittoria è essenziale, è vitale, è pesantissima. È pesantissima. Io vi dico semplicemente che è una cosa preoccupante. Preoccupante perché io sono ancora qui e sento delle persone che mi vengono a parlare del bel gioco. Mi sono ritrovato dei commenti di persone che parlavano del bel gioco. Delle persone che mi continuano a parlare dello scudetto. Eh, ma questa Juve come poteva vincere lo scudetto? Quindi prestazione e quindi risultato. Sempre come se fossero delle battaglie ideologiche. Ma ragazzi, ma come se questi fossero i discorsi giusti da fare nel momento giusto. Non sono né nel momento giusto né sono i discorsi giusti da fare. Perché guardate i tre punti oggi, guardate questo. Guardate il dito che indica la luna. C'è il dito che indica la luna. Non state guardando la luna, state guardando il dito che indica la luna. Non sono i tre punti, eh, ragazzi. Mi dispiace. Non sono i tre punti. E non è nemmeno Allegri. Perché qua c'è gente che mi dice, eh, però tu dici questo per Allegri, ragazzi. Ma a me, oggi la prestazione dei calciatori mi ha fatto investialire. Oggi la prestazione dei calciatori mi ha fatto investialire. Per come abbiamo preso i gol. Per come arrivavamo sulle seconde palle. Per come facevamo vedere di crederci. Io ho letto delle persone che nei commenti mi hanno detto, però almeno il cuore della Juve c'è stato. Ma che cuore c'è stato, ragazzi? Ma dove l'avete visto oggi il cuore? Io non ho visto cuore da nessuna parte. Tranne i due, tre giocatori che si salvano sopra gli scudi di cui parleremo domani nel pagelle. Ma io non ho visto il cuore della Juve, eh. Quindi a me fanno investellere i calciatori. Poi mi fa investellere l'allenatore. Perché non c'è mai la possibilità di spostarsi leggermente da quella che è la sua convinzione. Allegri è fatto così. Allegri scambia la sua opinione per verità assoluta. Non si mette in discussione, non si mette in dubbio. Sintomo sinonimo di chiusura mentale. Perché chi non si mette mai in dubbio pensa semplicemente di essere già perfetto. E allora no, non ho esultato, ragazzi. Ed è una cosa che, ripeto, mi dispiace e che mi fa male. Perché, cavolo, se uno si mette lì per seguire la propria squadra e la squadra vince al novantesimo, deve essere una roba bella. Però io vi ripeto che siamo ancora in crisi profonda. Siamo ancora dentro alla crisi. E questi tre punti non sono una panacea. È una sorta di effetto placebo quello che fa in me questi tre punti. Per quanto consideri questa vittoria importantissima e vitale. Perché se no avevi il Bologna, cos'è? Sette punti dopo, una roba del genere. Adesso è a nove. No, avercelo a sette era già diverso. Colmina anche giocava con l'Atalanta. Insomma, questi due punti in più sono essenziali. Però io guardo il calendario, penso a quello che siamo all'interno di questo filotto e mi vengono i brividi. Perché in questo momento abbiamo un livello bassissimo. Bassissimo. Dai giocatori all'allenatore. Livello bassissimo di Juventus. Perché l'unica speranza che ho è una sorta di effetto elettroshock causato dal gol di Rugani. Ed è una cosa della quale non sono nemmeno sicuro. Perché la cosa bella che mi porto a casa è quell'esultanza di gruppo. Io sono aggrappato con le unghie, con i denti soltanto unicamente a quello. Ma non è una certezza. Non è una cosa che ho certa in testa quella lì. Quella lì è una speranza che è diverso. E siamo sempre qui a dire il gol che cambia le stagioni. Il gol di Alessandro nel derby, il gol di Lovic nel derby, i gol che vanno iniziare i filotti. Ragazzi mi sono anche un po' stancato di dover sempre cercare il gol che smuove qualcosa. Cioè non è possibile essere sempre solo questi. Avere sempre solo bisogno dell'elettroshock. Il gol di Rugani può essere l'elettroshock? Sì oppure no? Boh! Vale tutto. Cioè è il gol di Schrodinger. È il Rugani di Schrodinger. Sì è elettroshock che non è elettroshock. Lo impariamo nelle prossime partite. Ma io oggi guardo il calendario, guardo quello che siamo e ho paura. Ho paura. Ho paura. Come faccio a esultare se ho paura? Ho paura. Sono spaventato. Sono spaventatissimo. Poi le reazioni di Rugani, di Vlaovic, del gruppo, del gruppo. Sono una cosa bella, bellissima. Le guardo e mi si scioglie qualcosa qui. Per forza di cose. Però io di questi tre punti oggi me ne faccio poco e niente. Non perché non servano. Ma perché io oggi avevo bisogno di risposte. Avevo bisogno di certezze contro una squadra che quelle certezze te le poteva concedere. Ragazzi stiamo parlando del Frosinone. 23 punti in Serie A. Peggior difesa del campionato. Negli ultimi quattro partite avevamo fatto un punto. Ci hanno dimostrato di essere più in forma di noi. Di Francesco poi si è anche sciolto dicendo cavolo dispiace non raccogliere quello che facciamo vedere. Ma il Frosinone con la differenza di livello tecnico della Juventus non può venire a fare una partita del genere a Torino. Ha maggior ragione con la Juve in questa difficoltà e con il calendario che ha davanti e con gli obiettivi che deve ancora raggiungere in stagione cavolo. Perché quelli che andremo ad affrontare adesso proveranno a divorarci. Se ci prova il Frosinone a divorarci. Il Frosinone a dieci minuti dalla fine pensava di vincere la partita. Voleva vincerla. Se ci prova il Frosinone a Torino a divorarci in casa. Domenica andiamo a Napoli. Napoli-Juve. Vi leggo le partite di marzo e quelle da qui a fine stagione. Napoli-Juve. Juve-Atalanta, Juve-Genua e Juve-Lazio di Serie A. Sono partite difficili. Sono partite complicate. Se vogliamo proprio solo il Genoa sulla carta. E quella squadra che dici ok qualcosa. Sì ma è in Poliudinese Frosinone la Sverona. Ragazzi mi ha vinta una e al novantacinquesimo con gol di Rugani dopo una prestazione del genere. Ecco io che vi dico io non riesco ad essere sollevato, felice, leggero, con la mente libera. Ragazzi non ce la faccio. Mi dispiace. Non ci riesco. Mi dispiace dirvi queste cose. Mi dispiace passarvi i cerati concetti. Vale sento le prove. Non posso nasconderele. Devo farvi una recita. La prossima volta faccio una recita. Esulto a un gol anche se quel gol non mi sta trasmettendo niente. Perché sono preoccupato. Perché sono preoccupatissimo. Può essere elettroshock. Eh lo vediamo. Dopo queste. Che questo qua è solo marzo. Queste quattro partite solo marzo. C'è anche una pausa nazionale in mezzo tra Genoa e Lazio. Due settimane. Dopo cosa c'è? Juve-Lazio di Coppa Italia. Quindi due volte la Lazio di fila. Nel giro di qualche giorno. Poi Juve-Fiorentina. Poi il derby. Toro-Juve. Poi Cagliari-Juve. Che dovrebbe essere un po' più tranquilla. Poi ancora Lazio-Juve in Coppa. Poi Juve-Milan. Poi Roma-Juve. Poi Juve-Salernitana. Che è l'ultima in classifica in questo momento. Quindi potrebbe essere un po' più. Poi andiamo a Bologna. Provate a immaginare dopo quel filotto lì. Se il Bologna... Si gioca l'accesso alla Champions contro la Juve. Dobbiamo andare a Bologna contro questo Bologna a giocarlo. E poi l'ultima in casa Juve-Monza. Il Monza è... È un po' la bestia nera della Juve. Se vogliamo in questi anni. Certo siamo anche riusciti a vincere. Però l'anno scorso è stata la squadra che ci ha dato noia. Quindi ragazzi io... Guardate. Vi dico. Sono contentissimo se dall'altra parte c'è chi l'ha presa in maniera positiva. È riuscito a gioire. È riuscito a essere contento. Perché... In questo momento vi invidio questa cosa qui. Perché davvero non... Non ce la faccio. Non ce la faccio. Perché ho dentro una FIFA un terrore e vi ho voluto leggere il calendario proprio per cercare di farvi capire, per passarvi qualcosa di quelli che sono i miei sentimenti adesso. Perché temo che questa vittoria possa semplicemente farci dire... Vabbè dai alla fine abbiamo vinto e quindi... E no perché... Cioè il meglio deve ancora venire eh. E forse il meglio forse anche il peggio. Perché fino a oggi vi dicevo che la qualificazione di Champions per me non era in discussione. E nonostante questi tre punti... Inizio a forse a cambiare idea eh. Sono nervoso. Sto battendo la gamba quella buona sotto il tavolo perché sono veramente nervoso. Non vedo la luce in fondo al tunnel. E l'unica cosa che posso fare è sperare che questo gol di Rugani possa essere una sorta di fiamma che la Juve può riuscire a provare a seguire per cercare di uscire da questa crisi che non finisce con questi tre punti. Non finisce con questi tre punti. Poi meglio farli che non, indubbiamente. Però non devo guardare il complesso. E la Juve in questo momento è una squadra che non è una squadra. Mi fa ben sperare l'esultanza di gruppo finale. Quello mi fa ben sperare. Perché quella roba lì l'abbiamo persa. Indubbiamente. E ripeto, fino adesso... Non è stato un discorso allegri o non allegri. Le cambiamo, le otteniamo. Non è quello. Il discorso è proprio tutto un altro. E in questo momento ho paura. Davvero ho paura. Ma voglio sapere la vostra qui sotto nei commenti. Spero che abbiate capito. Ciao. Ciao. Ciao.